Allenamento speciale riserva la città di Ragusa al Biazzo in vista alla fida playoff di domenica contro il Paternò. A gruppo azzurro, infatti, durante la consueta sessione di preparazione, si è uniti il commissario Salvo Montalbano, proprio lui, l'attore Luca Zingaretti, tutt'ora impegnato nelle riprese televisive della ficha più famosa in Italia e con il set al momento a Scicli. Si è ben comportato, ha commentato il tecnico Lavaccare, e si capisce subito che è il fisico di un atleta, completando nella maniera migliore la seduta assieme al resto del gruppo. Per noi una celebrità simile è il miglior viatico in vista al match di domenica col Paternò, ma è chiaro però che questo episodio resta una piacevole parentesi, per cui, dice ancora Lavaccare, siamo tornati concentrati per riuscire a centrare l'obiettivo finale, quello c'è della promozione, nella serie superiore. E rappresenta la seduta di allenamento accre presente Giovanni Vitale, che ha regalato una maglia azzurra al commissario e che ha colto con piacere il fatto che Zingaretti abbia scelto di allenarsi con la squadra. Ci ha fatto un grosso in bocca al lupo, arriva lato Vitale, speriamo che anche con il suo supporto effettivo si possa riuscire a tagliare il traguardo che inseguiamo da un'intera stagione.